Buongiorno a tutti, sono Riccardo Fontani, terra di Roma, insieme a Ludovico Ronconi, elicicoltori, 40 recinti, al ciclo naturale completo, metodo Cherasco e raccogliamo molto volentieri l'invito che abbiamo ricevuto dal nostro Presidente Simone Sampò, Presidente dell'Istituto Nazionale di Elicicoltura di Cherasco a diffondere l'informazione corretta che bisogna fare contro il coronavirus. Andiamo in campagna, ragazzi, elicicoltori, colleghi, approfittiamo di questo momento difficile e duro per tutti quanti, non solo per l'Italia purtroppo, per fare manutenzione, come stiamo facendo noi, per seminare, per coccolare le nostre chiocciole, che amiamo tanto. Forza, coraggio, un abbraccio a tutti quanti, colleghi e non, e l'elicicoltura non si ferma, il futuro è chiocciola. Buona giornata, ragazzi!